Come al solito vi ricordo che registro la sessione online e quindi poi ve la metto a disposizione non appena finito l'interazione. La modalità di funzionamento di queste lezioni online è un po' diversa dal solito, quindi non è quella classica della lezione. L'obiettivo è quello di riepilogare sostanzialmente gli elementi principali delle video lezioni che vi ho messo a disposizione prima. L'ultima è stata diciamo di ieri sera, quindi sarà un po' più dettagliato e dopo vorrei sostanzialmente essere a disposizione per domande e chiarimenti. Quindi approfitterei di questa sessione interattiva per iniziare a farvi vedere anche Eclipse, che è l'ambiente integrato di sviluppo che utilizzeremo per sviluppare il codice in generale durante il corso. Quindi di cosa trattiamo sostanzialmente in questo corso? In questo corso andiamo a trattare principalmente il linguaggio Java, quindi la programmazione, l'approccio orientato agli oggetti è un qualcosa che noi andiamo a fare utilizzando il linguaggio Java. Quali sono le caratteristiche fondamentali del linguaggio Java? Adesso arriviamo poi ai chiarimenti con calma. Riepilogo velocemente. La sintassi è molto simile al CI, quindi abbiamo i commenti, abbiamo anche i commenti multilinea. Ecco, abbiamo i commenti multilinea come in CI, abbiamo i commenti sulla singola linea. I blocchi sono sostanzialmente gli stessi, a differenza del CI base è possibile dichiarare le variabili in qualunque punto del codice. I costrutti di controllo sono sostanzialmente gli stessi. Una piccola differenza è sui statement di tipo switch che in Java, a partire dalla versione 7, accettano anche le stringhe, permettendo un codice un po' più efficiente rispetto alla cascata di if-else. Un tipo nuovo che c'è in Java è boolean, che ha questi due valori true e false, e tutti i costrutti di controllo usano boolean. Quindi io non posso utilizzare x uguale a 0 perché questo è un intero. Questo è stato introdotto per pulizia e soprattutto per evitare tipici errori di programmazione, quali ad esempio scrivere appunto x uguale a 0 invece di x uguale a 0. I parametri li abbiamo visti, abbiamo detto che ci sono due tipologie di elementi, quelli che sono gli elementi strutturali e poi, ho detti anche tipi, che io definisco a tempo di compilazione, oppure gli elementi dinamici che sono quelli invece che esistono in fase di esecuzione, quindi riferimenti e le variabili. Per iniziare la nostra panoramica, iniziamo da quelli che sono i tipi primitivi. I tipi primitivi sostanzialmente sono tipi fondamentali del linguaggio, introdotti in Java per motivi di efficienza, che sostanzialmente mi permettono di avere un'interazione efficace con il calcolatore. Quindi rispetto ad avere un oggetto intero, un tipo primitivo è molto più piccolo, più compatto e più efficiente da utilizzare. Quando io dichiaro una variabile tipo intero I, in cima, avveniva la stessa cosa in Java, viene allocata l'area di memoria e soprattutto si dice che I è un nome noto e ha come tipo int. I tipi primitivi in Java sono quelli che vedete qua. Quindi il tipo booleano che vi indicavo prima, il carattere, che a differenza di quanto avviene in C è codificato su 16 bit perché usa la codifica Unicode UTF-16, byte, short, int, long, che sono i quattro livelli di dimensione degli interi, float, double, che sono i valori floating point, e poi void, come al solito. La domanda è che cosa serve il tipo byte? Il tipo byte è comodo quando io voglio accedere a una sequenza di byte. Immaginate di dover andare a elaborare una sequenza di dati che corrisponde, che so, a un'immagine video o qualunque file o contenuto binario. È comodo rappresentarla come un array di byte. In questo modo io accedo direttamente a ogni singolo byte senza dover fare i vari pasticci che potrei fare in C andando a identificare pezzi di intero. E soprattutto l'ordine è quello, non ho problemi di big endian, di ten endian. Quindi mi permette di usare sequenze di byte direttamente in Java. I valori letterali sono noti, gli operatori sono esattamente gli stessi. Ricordatevi che gli operatori logici operano su dei valori booleani. E quindi devo per forza avere come risultato un booleano. Quindi non posso fare un end tra due variabili intere. Le classi. Io definisco le classi, tra un attimo vediamo come, in Java e una volta che sono definite le posso utilizzare come fossero un tipo. Quindi esattamente come dichiaro una variabile i di tipo int, posso dichiarare, nell'esempio che vediamo qui, una variabile e di tipo esame. Cosa vuol dire? Vuol dire che E sarà quello che si chiama un riferimento. Allora questo è un punto fondamentale per cui mi ci soffermo un attimo anche in questo riepilogo. In Java, quando io dichiaro una variabile che ha come tipo una classe, quella variabile è sempre un riferimento. Che cos'è un riferimento? Un riferimento sostanzialmente è un puntatore, un po' nascosto, un po' gestito dalla virtual machine, quindi da tutto il contesto Java, ma sostanzialmente sotto sotto è un puntatore. Che punta a che cosa? All'oggetto. Abbiamo detto che la classe definisce la struttura e io poi durante il programma avrò, in corrispondenza di queste classi, degli oggetti che occupano un'area di memoria. I dati degli oggetti devono stare da qualche parte. Quindi quel puntatore sostanzialmente fa riferimento all'area di memoria in cui è memorizzato l'oggetto. Quindi dire esame E, punto e virgola, significa esclusivamente dire che esiste un riferimento, che si chiama E, a un oggetto di tipo esame. Questa dichiarazione non, ripeto, non crea alcun oggetto. Semplicemente dichiara il riferimento. Attenzione che questa è una differenza fondamentale rispetto ad esempio ad altri linguaggi ad oggetti. Ad esempio C++, in cui una dichiarazione di quel tipo di fatto crea un oggetto. In Java non abbiamo nessun oggetto, finché non lo creiamo esplicitamente. Come facciamo a crearlo? Beh, lo vediamo qua sotto, usando questa parolina magica che si chiama new, che permette di creare un nuovo oggetto andando a specificare la classe da cui partire. Quindi la classe sostanzialmente mi dice come è fatto. New prende quella struttura definita nella classe, alloca la memoria e mette nel riferimento il puntatore alla memoria che ospiterà tutti i dati degli oggetti basati su quella classe. Abbiamo visto quindi che la classe è quello che permette di andare a descrivere un oggetto in termini di struttura. La struttura consiste in una serie di membri, attributi, metodi e costruttori. I costruttori sono dei frammenti di codice simili ai metodi che permettono di andare a inizializzare gli oggetti quando vengono creati. Immaginate di dover creare un oggetto, un oggetto è potenzialmente un qualcosa di complesso, con tanti attributi, di tanti dati al suo interno, quindi è utile avere qualcosa che permetta di inizializzare questi attributi. Come dichiaro la classe? Allora, l'esempio qui è della classe car, che sostanzialmente ha tre attributi e tre metodi. Di fianco qui vediamo anche la rappresentazione, diciamo in notazione simile UML. Nome, metodi e attributi. In UML non vediamo il dettaglio dei metodi. Allora, domanda. String. Allora, string e il nome string si riferisce a una classe. Quindi, effettivamente, color e brand sono due riferimenti. Non li inizializziamo perché in questo esempio molto semplice non ho messo la parte di inizializzazione. Però, effettivamente, color e brand, una volta che io creo un oggetto, se la classe è quella che vediamo qua, quando creo un oggetto di tipo car, color e brand sostanzialmente non puntano ad alcun oggetto. Quindi, se io voglio avere un colore e una marca iniziale, devo andare a definire un costruttore. Lo vediamo poi un po' più avanti. Però sì, deve essere inizializzato se voglio avere un valore, altrimenti quelli sono riferimenti a nulla. I puntatori non esistono in Java? La risposta breve è no. La risposta lunga è sì, in effetti, i riferimenti sono, in pratica, dei puntatori, ma mascherati. E quindi non riusciamo a utilizzarli come utilizziamo i puntatori in C. Quindi, non c'è nulla di esattamente equivalente come funzionalità complessiva ai puntatori C. I riferimenti si comportano un po' come puntatori, però sostanzialmente vi impediscono di fare qualunque schifezza voi eravate in grado di fare in C. Quindi, sono dei puntatori estremamente protetti e limitati. Quindi, questo è un esempio molto molto semplice di classe. Abbiamo detto, come giustamente veniva fatto notare dalla domanda, non c'è un'inizializzazione che però sarebbe opportuno fare. Però, giusto per darvi l'idea, questo è il modo in cui io vado a dichiarare una classe. A questo punto, invece di fare l'epilogo di tutto, farei una breve pausa, cioè, sospendiamo le slide, non è che facciamo la pausa delle lezioni. Sospendo queste slide e vi apro Eclipse, che è l'ambiente integrato di sviluppo. Quindi, vediamo come possiamo andare a scrivere una classe dentro Eclipse. Allora, sospendo un attimo questo condivisione. Apro Eclipse. Allora, come riepilogo veloce, vi ricordo di far riferimento alle informazioni sul software di riferimento del corso che trovate qui. Quindi questo è su OOP Polito IT Doc, trovate il software di riferimento. Come vi accennavo la volta scorsa, il software di riferimento, che è quello che sarà poi utilizzato durante l'esame. Dobbiamo avere un riferimento che è quello installato in laboratorio e usato durante l'esame. Poi, voi potete tranquillamente utilizzare versioni più recenti, sia di Java che di Eclipse. Attenzione che non tutte le funzionalità ci sono. Quindi, il mio consiglio è, almeno all'inizio, limitatevi a questo. Poi, magari, dopo aggiornate le vostre versioni sia di Java che di Eclipse. Quindi, il software di riferimento, abbiamo detto, è Java 8. c'è la versione Oracle, che è quella originale, solo che hanno cambiato le licenze e quindi ora è una versione non più supportata e non più utilizzabile per scopi commerciali, ma solo per scopi free. Quindi questo corso rientra. Soprattutto la versione 8 Oracle non è più supportata, per cui io quello che vi consiglio è di scaricare la versione dal sito Amazon che si chiama Corretto. Quindi, se io faccio un clic qui sopra, andiamo sul sito di Amazon Corretto, avete diverse piattaforme, avete vari Linux, Windows, 64, 86, abbiamo Mac, e c'è anche Amazon Linux che in realtà probabilmente non ci servirà più di tanto. Quindi, il mio consiglio, se non l'avete già fatto, è di scaricare questo in modo che siate allineati. Eclipse. Vi suggerisco di utilizzare la versione Oxygen 3A e quella di laboratorio, quindi le versioni più recenti sono leggermente diverse, non cambia tanto, ma di nuovo per abitudine è meglio. se voi avete messo versioni più recenti di Java, non importa, adesso poi vi faccio vedere in Eclipse dove andare a impostare la funzionalità di Java 8 in modo da avere come riferimento del linguaggio, anche come suggerimenti e correzioni, il linguaggio di riferimento che è la versione 8. Quindi vi potete scaricare Eclipse per andare a scrivere il vostro codice. A questo punto andiamo a vedere Eclipse. vediamo se lo troviamo, eccolo qua. Ok, quindi questo è Eclipse. quando iniziate, vedete questa pagina e quando spaventatevi perché è una pagina di benvenuto che non serve a molto. Ci sono un po' di link per imparare tante cose, ma non sono particolarmente significativi. Quello che dovete fare è andare a cliccare qua su in alto a destra in modo da iniziare a vedere quello che è il workbench, cioè il banco di lavoro. Allora, qui c'è già un progetto che ho creato io con un po' di esempi. Sostanzialmente sono gli esempi delle slide. Vi rimetterò a disposizione, quindi il codice che c'è nelle slide ce l'avrete a disposizione se volete poi prenderlo, provarlo e fare qualche piccola modifica e verifica. Quello che normalmente si fa è che si lavora a progetti. Quindi, quello che si inizia a fare è qua creare un nuovo progetto Java. Se avete scaricato la versione per sviluppatori Java, normalmente qui c'è Java Project e basta. In realtà Eclipse è un ambiente integrato che può essere utilizzato per tanti scopi e quindi potete scriverci codice Java, C, C++, Python, PHP, quello che volete. Quindi ci sono le varianti dei plugin che permettono di andare a sviluppare in tanti linguaggi. Quindi noi scegliamo un nuovo progetto Java, esce una finestra che ci chiede che tipo di progetto vogliamo fare, quali sono le caratteristiche e come lo chiamiamo? Questo chiamiamolo primo progetto. Normalmente, quando siete partiti, Eclipse vi ha chiesto di scegliere un workspace e quindi tutti i progetti verranno messi sotto quella cartella, questa è la posizione di default, altrimenti dovrete andare a scegliere una posizione sul vostro file system dove andare a mettere. Non si vede il pop-up. Perfetto. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua. Ok, adesso si vede. Benissimo. Scusate, ma non condivido lo schermo se no andiamo in loop perché c'è la mia immagine, ci sono le chat, eccetera, che coprono le slide, quindi non vedreste tante cose. Allora, dicevo, abbiamo il nome del progetto qua su in cima, la posizione del progetto che normalmente è sotto la cartella del workspace. Il nome del progetto no, può essere, non deve essere necessariamente tutt'uno, primo progetto 2020, quindi può essere qualunque cosa. Sostanzialmente quello diventerà il nome di una cartella. In generale, per mia abitudine, non uso nomi di cartelle con gli spazi, ma per mia abitudine. In realtà potete utilizzare tranquillamente gli spazi. Dopodiché vi chiede che tipo di ambiente usare per eseguire questo progetto. Normalmente la risposta è utilizzare l'ambiente di esecuzione esecuzione che è di default installato sulla macchina. Io su questa ho Amazon corretto. Quindi quello è quello che viene proposto di default. In realtà io potrei andare qui a scegliere una delle tante virtual machine che ho installate, perché probabilmente voi ne avete installata una, ma in pratica è possibile avere tante diverse virtual machine installate sulla macchina. Una di queste sarà quella di default, le altre possono essere utilizzate all'occorrenza. Io qui ad esempio ho tanti versioni di standard edition, quindi la versione Oracle 8, 7, ho un OpenJDK 11 e un Amazon corretto 8. Quindi volendo uno può scegliere la variante di ambiente di esecuzione che preferisce. Per cui se volete installare sia la 11 che la 8, qui potete andare a scegliere una. Le varie varianti sono semplicemente update diversi. Quindi nel corso del tempo hanno mandato degli update dell'ambiente di esecuzione, quelli vecchi non sono stati cancellati, ma sono restati lì. Oppure andiamo a usare un ambiente di esecuzione e quindi questi sono tutti gli ambienti di esecuzione. Attenzione che qua mette tanti ambienti di esecuzione anche non installati sulla macchina. Quindi tendenzialmente questo è un qualcosa che è meglio non utilizzare. Avendo installato la versione 8 di corretto o Oracle, questa è la soluzione. In alternativa potete mettere Java 1.8, Java SE 1.8, quindi vuol dire che valgono tutte le convenzioni di Java 1.8. Project Layout è un altro dettaglio che mi permette di andare a indicare come strutturare il progetto. Allora, una cosa che probabilmente voi non avete mai fatto, soprattutto se avete fatto progetti C molto piccoli, è quello di gestire tanti file. In Eclipse, soprattutto per i progetti Java, ci sono sostanzialmente due modalità. La prima è tutto quello che creo e poi genero come compilatore lo metto in un'unica cartella. Oppure creo due cartelle, uno per i file sorgente e un altro per i file binari i sostanzialmente quelli che sono i bytecode generati dal codice. Quindi io resto con la mia funzionità di default, è il primo progetto, a questo punto finisco. Ovviamente mi ha chiuso la finestra, adesso torniamo a Eclipse, ok? E come vedete qua mi ha creato il mio primo progetto. Il progetto sostanzialmente mi mette una cartella SR5 in cui verranno messi i file più quella che è la libreria che viene utilizzata come riferimento. Vi dicevo che un aspetto importante di Java sono tutte le librerie che sono presenti nel linguaggio, ecco, lì c'è un puntatore alle librerie. Ovviamente queste librerie cambiano leggermente da una versione all'altra di Java e cambiano un pochettino in funzione dell'ambiente che voi utilizzate, per cui se utilizzate un progetto per andare a scrivere un'applicazione Android, le librerie che sono disponibili su Android sono leggermente diverse da quelle che avete a disposizione su un PC, un Mac, desktop. a questo punto scusate che mi ero perso la chat nel caso ci fossero domande che cosa faccio come prima operazione vado a creare una nuova classe. A differenza di quanto viene fatto in altri contesti, Eclipse, anche in altri ambienti analoghi, non operano a livello di file, ma vi danno la possibilità di operare a un livello un po' più alto, quindi parliamo di classi. Volendo possiamo anche creare direttamente un file, ma l'idea è che chiedo Eclipse di crearmi una classe. Perché? Perché quando chiedo Eclipse di crearmi una classe mi appare un pop-up che è questo, in cui io vado a inserire il nome della classe. Abbiamo detto che vogliamo fare la classe car simile a quella. Allora, domanda, necessario scaricare sia il JDK che il GRE? È sufficiente scaricare il JDK che contiene tutti gli strumenti per lo sviluppo. Quindi il JRE è un sottoinsieme del JDK che contiene soltanto l'ambiente di esecuzione. Il JDK è quello più completo. Quindi, definisco una classe che si chiama car e vado a dire finish. E questo scusate di nuovo mi va a mostrare mi va a creare questa classe. Quindi adesso vi ingrandisco un attimo il codice. Che cosa ha fatto Eclipse? Vi abbiamo detto di creare una classe car. Lui ha creato un file che si chiama car.java me l'ha messo qui nell'SRC e mi ha inizializzato la definizione della classe in questo modo quindi public class car. Questa è la versione minimale di una qualunque classe. Quindi qui dentro andremo a definire string colore string marca boolean acceso e poi salvo. quindi questo è quello che viene fatto normalmente in Eclipse. Quindi vedete che l'editore qua viene automaticamente aperto viene generato la struttura della classe. Vi faccio vedere un altro esempio ovviamente la classe contiene semplicemente dati e metodi come abbiamo visto negli esempi la volta scorsa se io voglio avviare l'esecuzione devo andare a creare una classe chiamiamolo programma con questo pop-up quindi metto programma e vedete qua sotto c'è questa opzione che è public static void main string quadra args e quindi io vado a selezionare quest'opzione e facendo finish eclipse mi ha generato questa classe quindi public class programma esattamente come prima in più mi ha generato tutto il codice base del metodo main che è il metodo da cui parte l'esecuzione quindi io dico eclipse generami una classe eventualmente scelgo alcune caratteristiche e lui automaticamente mi costruisce il file mi genera il codice di base e me lo mette dentro e quindi mi apre l'edito per poterlo poi andare a modificare quindi l'idea è che io lavoro a un livello di astrazione un po' più alto rispetto ai semplici file con cui siamo abituati ad esempio nell'operare con il linguaggio C torniamo a questo punto alla programmazione scusate alle slide un paio di domande sì ci sono i suggerimenti li vedremo dopo aver scaricato installato corretto è necessario installare Eclipse Eclipse è scritto in Java e quindi dovete prima installare una virtual machine in Java altrimenti non funziona nulla quindi l'ordine è prima installato corretto o qualunque altre variante corretto è quello consigliato e poi installato Eclipse Eclipse ovviamente si basa sulla virtual machine di corretto per poter funzionare Allora voi avete package primo progetto probabilmente hai creato un package invece del del progetto che è stato chiamato in quel modo arriveremo a parlare di package tra un po' abbiate un attimo di pazienza Allora andando avanti abbiamo visto attributi e metodi ecco a questo punto vorrei veicelmente con voi andare a vedere cosa succede quando io eseguo del codice con dei riferimenti Abbiamo in questo caso una prima dichiarazione di due riferimenti a 1 e a 2 che praticamente mi vanno a creare due riferimenti non inizializzati quindi sono due variabili senza alcun valore al loro interno non esistono gli oggetti esistono a questo punto soltanto riferimenti per creare l'oggetto bisogna di eseguire l'istruzione successiva con la chiamata new new che cosa fa mi crea un oggetto e memorizza dentro il riferimento a 1 un puntatore all'oggetto che abbiamo appena creato a questo punto io posso utilizzare il riferimento a 1 per accedere all'oggetto quindi a 1.paint sostanzialmente cosa fa prende il riferimento a 1 recupera l'oggetto e su di esso chiama il metodo paint quindi sostanzialmente questa istruzione usando il riferimento chiama il metodo sull'oggetto qualunque operazione io voglia fare sugli oggetti devo andare a utilizzare dei riferimenti quindi i riferimenti sono il meccanismo con cui io accedo gli oggetti l'istruzione successiva a 2 uguale ad a 1 sostanzialmente copia a 1 in a 2 attenzione i riferimenti sono una versione molto elaborata ma sostanzialmente sotto sotto sono dei puntatori quindi sostanzialmente copiare un riferimento nell'altro significa copiare il puntatore quindi a 2 uguale ad a 1 significa che io copio il puntatore non creo un duplicato dell'oggetto quindi sostanzialmente dopo aver eseguito quella istruzione ho due riferimenti che entrambi puntano allo stesso oggetto questo è quello che normalmente si chiama aliasing ovvero avere più nomi in questo caso a 1 e a 2 per riferirsi alla stessa entità allo stesso oggetto in questo caso io in qualunque momento posso andare a inserire dentro un riferimento il valore null null che cosa fa? semplicemente va a cancellare qualunque riferimento e va a inserire questo valore speciale che vuol dire nessun oggetto se faccio anche l'istruzione dopo quindi a 2 uguale a null cancello anche l'altro riferimento metto null dentro il riferimento a 2 a questo punto l'oggetto è assolutamente irraggiungibile domanda se modifico a 1 si modifica anche a 2 allora non lo direi esattamente così però se modifico un oggetto tramite a 1 la modifica la vedo poi anche attraverso a 2 quindi se chiamo paint su a 1 con a 2 vedrò lo stesso colore perché puntano lo stesso oggetto ok quindi sono semplicemente due strumenti di accesso diversi esattamente allo stesso oggetto immaginate una stanza in cui ci sono più interruttori che accendono la stessa lampadina usarne uno o usare l'altro sostanzialmente non cambia nulla io posso accendere con uno spegnere con l'altro e viceversa il risultato è che entrambi operano sulla stessa lampadina e qui i riferimenti sono un po' più sofisticati degli interruttori ma il concetto è lo stesso entrambi sono collegati allo stesso oggetto abbiamo visto e qui riepilogo allora aspettate mi fermo un attimo torno indietro allora esiste un modo standard di fare una copia di un oggetto sì esiste la possibilità di andare a clonare gli oggetti però visto che la struttura non è variabile sono io che definisco come sono fatti gli oggetti normalmente devo scrivere io esplicitamente il codice per andargli a duplicare altrimenti una copia brutale potrebbe non funzionare quindi devo dire scrivere esplicitamente un metodo di clonazione oggetti creati tramite la parola chiave new l'abbiamo vista già prima per riepilogarvi quindi new funziona in questo modo new seguito dal nome della classe e poi parentesi tonde che cosa fa la new la new sostanzialmente crea un'istanza andando a allocare la memoria prima operazione quindi sostanzialmente si comporta un po' come una malloc solo che dopo aver allocato la memoria come la malloc come la malloc fatta anche altre operazioni chiama il costruttore che non abbiamo finora visto ma adesso ci arriviamo che è una specie particolare di metodo che serve per inizializzare gli attributi dell'oggetto dopo aver chiamato il costruttore restituisce il riferimento all'oggetto quindi sostanzialmente il puntatore all'area di memoria e questo viene memorizzato dentro il nostro riferimento i costruttori possono essere come in questo caso senza parametri oppure possono avere dei parametri che cos'è un costruttore? è un metodo molto particolare che permette di inizializzare gli attributi tenete presente che comunque quando l'operatore new alloca la memoria per un oggetto l'alloca sulla base di cosa? sulla base dell'elenco degli attributi comunque questo operatore new inizializza tutti gli attributi con un valore di default dopo averli inizializzati chiama il costruttore che a questo punto può inizializzarli con dei valori che non sono quelli di default i valori di default sono questi 0 per tutti i valori numerici falso per il booleano e null per ogni riferimento quindi tornando alla domanda che mi avrete fatto prima la classe car che non ha nessun costruttore quando viene allocata si ritrova tutti i suoi attributi inizializzati quindi le due stringhe che sono riferimenti vengono inizializzate a null il valore booleano viene inizializzato a false attenzione quando utilizzate e quando definite un costruttore perché il costruttore deve essere dichiarato senza alcun tipo di ritorno quindi questo è il costruttore della classe car public non c'è nessun tipo di ritorno neanche void se mettete void è un errore nome della classe che è quello che c'è in alto eventuali parametri e poi il codice allora quando crei allora non posso creare una variabile primitiva nel senso che le variabili primitive io le posso utilizzare direttamente come variabili locali all'interno del codice se io mi trovo dentro il metodo main ad esempio e scrivo una variabile quella variabile normalmente non è inizializzata passo un attimo ai clips nuovamente così lo vediamo direttamente con un esempio concreto che forse è più facile da ricordare eccoci qua siamo su eclipse allora che cos'è una variabile primitiva e cos'è un un riferimento allora se io scrivo car c c è un riferimento perché perché il tipo di c è una classe e quindi c è un riferimento a un oggetto di quella classe se io invece scrivo int i ecco questo è una variabile di un tipo primitivo i tipi primitivi sono quelli che abbiamo visto poco fa quindi boolean char short int long float double quindi questa è una variabile primitiva messi qua dentro queste sono variabili locali quindi è la funzione il metodo main qui dentro sia c che i non non sono inizializzati ok quindi non ho nessun valore a differenza di quanto avviene in c per cui anche in c quando io dichiaro delle variabili come i in questo caso non viene inizializzata se io provo a fare che so i più più in c il risultato è casuale nel senso che nell'area di memoria in cui si trovava i c'erano dei bit casuali i più più me lo incrementa e quindi ottengo un altro valore che potenzialmente è casuale comunque difficile da conoscere a priori in java quando io faccio un'operazione di questo tipo il compilatore mi dice e lo vediamo qua sotto lo vedete che lo allargo ancora vedete che è sottolineato in rosso perché c'è un errore l'errore è e mi posiziono qua la variabile locale i potrebbe non essere inizializzata quindi mentre ci mi dice non l'hai inizializzato peggio per te java ci dice non l'hai inizializzato io non te lo lascio usare questa variabile non la puoi utilizzare abituatevi a vedere gli errori del codice perché sono evidenziati abbastanza bene sono evidenziati anche qua nel bordo la variabile locale allora qui salvo e qui mi dice che la variabile locale potrebbe non essere inizializzata lo stesso che messaggio che ottengo qua sotto ed è lo stesso messaggio che ottengo andando qui sotto nei problemi ho un errore e mi dice la variabile locale i potrebbe non essere inizializzata vi faccio notare che se io ho appena salvato un programma con un errore qua su nell'icona mi compare questo bollino rosso con la x e anche qua nel programma mi compare il bollino rosso con la x e anche sul progetto nel senso che il progetto mi dice c'è un errore da qualche parte quindi le variabili locali non vengono inizializzate i non viene inizializzato ma non viene neanche inizializzato c per cui se io faccio c.paint quite no giustamente non ho messo il metodo paint ve lo vado a mettere qua ad esempio quindi public void paint string new col colore uguale new col ok esattamente uguale a quello che c'era nell'esempio che abbiamo visto nelle slide quindi tornando qua a questo punto il metodo paint è presente e anche in questo caso mi dice la variabile locale c potrebbe non essere stata inizializzata e quindi java ci impedisce di fare qualunque cosa è un errore di compilazione quando invece vado a creare un nuovo oggetto e quindi faccio c uguale new car la java virtual machine cosa fa? crea un oggetto che corrisponde a questa struttura quindi con questi tre attributi e me li inizializza quindi gli attributi dentro l'oggetto vengono inizializzati le variabili locali no non vengono inizializzate e comunque Eclipse scusate Eclipse Java in generale non me le lascia utilizzare torno torno alle slide quindi abbiamo visto come è fatto costruttore mi raccomando attenzione a non mettere qui il tipo di ritorno perché altrimenti in presenza di un tipo di ritorno Java interpreta quello come un metodo che è casualmente al nome stesso della classe ma è un metodo e quindi non lo chiama automaticamente quando deve inizializzare l'oggetto quindi nessun tipo di ritorno semplicemente il nome è aperta chiusa a tonda quando mi trovo dentro un oggetto io posso utilizzare this che è un nome particolare che significa l'oggetto corrente e questo ad esempio può essere utilizzato per fare riferimento a altri membri dell'oggetto stesso in generale abbiamo visto che per invocare un metodo devo usare riferimento punto metodo e gli eventuali parametri gli esempi sono qua sotto normalmente quando io mi trovo dentro un oggetto posso andare a chiamare un altro metodo e implicitamente si intende che questo metodo verrà invocato sullo stesso oggetto ricordatevi che comunque in generale sempre i metodi vengono chiamati su un oggetto l'oggetto può essere esplicito come in questo caso quando metto a punto turn on quindi l'oggetto puntato ad a oppure implicito come in questo caso che vuol dire l'oggetto corrente questa scrittura sostanzialmente equivale quindi fare read page o fare this punto read page sono assolutamente equivalenti quindi se non metto nulla automaticamente i nomi di metodi e di attributi si intendono riferiti all'oggetto corrente lo stile di programmazione in questo caso varia ed è abbastanza personale quindi c'è chi preferisce utilizzare sempre this per rendere evidente che questo è un metodo dell'oggetto c'è chi invece per diciamo usare una notazione un po' più compatta semplicemente usa read page senza this davanti tenete presente che in alcuni linguaggi Python piuttosto che JavaScript che sono che hanno aspetti orientati agli oggetti non sono completi come Java ad esempio però hanno molti aspetti orientati agli oggetti in quei linguaggi è necessario andare a utilizzare this piuttosto che self in Python quindi se passate o pensate di passare tanto tra Java ad altri linguaggi per abitudine potete sempre mettere this e questo comunque è una non è un problema è corretto esattamente come l'altro un po' più lungo è corretto ed è più simile a quanto avviene anche in altri linguaggi di programmazione posso accedere anche a degli attributi ovviamente se io accedo a un attributo questo è un grosso problema perché sto violando il principio di incapsulamento quindi tendenzialmente questa è un'operazione che io non dovrei fare il this deve essere utilizzato dentro un metodo perché altrimenti non ha nessun significato c'era scritto in uno dei slide precedenti ma ad esempio se io utilizzo this dentro main che non è chiamato su alcun oggetto non funziona è un errore perché non c'è un oggetto che lo contiene quindi this dentro un metodo significa l'oggetto su cui questo metodo attualmente è in esecuzione in alcuni casi il this è obbligatorio uno tipico è questo quando ho il nome di un attributo e il nome di un parametro che sono gli stessi voi direte beh potevi cambiare il nome sì però magari per chiarezza a volte è comodo utilizzare lo stesso nome quindi in questo caso devo utilizzare this per risolvere l'ambiguità perché color a che cosa si riferisce la regola in generale è che quando io utilizzo un nome quel nome si aggancia alla sua definizione più prossima per cui color da solo si riferisce all'attributo se io voglio scusate al parametro del metodo se io voglio far riferimento all'attributo devo utilizzare per forza this quindi i riferimenti sono questi vi salto questa parte sulla notazione concatenata perché in realtà sono tutto sommato degli aspetti che potete poi guardarvi con calma vi ricordo riepilogando a questo punto quanto detto sui reference che i reference sono sostanzialmente dei puntatori molto sofisticati che permettono di nascondere il puntatore e di evitare tanti pasticci che normalmente avvengono in C per cui io sui riferimenti riesco a fare soltanto due operazioni mi posso andare a verificare se due riferimenti sono uguali o se sono diversi cosa vuol dire che sono uguali sono uguali se fanno riferimento allo stesso oggetto sono diversi se fanno riferimento a due oggetti distinti quindi se noi torniamo all'esempio fatemi scorrere un attimo di prima quello dei vari puntatori ecco se noi torniamo a questo esempio diciamo che dopo aver fatto a due uguale ad a uno a questo punto a uno e a due sono uguali sono uguali perché puntano allo stesso oggetto torno un attimo velocemente avanti quindi non c'è aritmetica dei puntatori non posso fare pasticci semplicemente posso andare a verificare se due riferimenti sono uguali quindi attenzione quando io faccio a uno uguale a due sto verificando l'uguaglianza dei riferimenti non l'uguaglianza degli oggetti è importante ovviamente c'è un modo per andare a confrontare due oggetti diversi come? come faccio a fare un'operazione su un oggetto? uso un metodo quindi devo usare un metodo degli oggetti per poter fare un confronto torno un attimo a eclipse così vediamo l'esempio concreto allora qui ho creato c che è un'auto inizializzata con i valori di default se vado a dichiarare un'altra variabile di uguale a new car ecco mi aspetterei che questi due oggetti siano esattamente identici sono stati inizializzati nello stesso modo si trovano in area di memoria diverse ma sono identici è ovvio che se io faccio uguali uguale c uguale uguale ad dove uguali è un valore boolean allora qui ve l'ho scritto di proposito in maniera arzigogolata allora guardiamo il primo pezzo boolean uguali dichiara una variabile booleana a cui assegniamo che cosa il risultato di questo confronto quindi non è necessario perché l'operatore uguale di assegnazione ha una priorità più bassa ma sostanzialmente è come se avessi scritto qui questa parte tra parentesi tonde quindi vado a confrontare c ed i il risultato mi dirà o true o false e lo metto dentro questa variabile booleana e poi la stampo il risultato lo vediamo qua è false ok perché sono due oggetti diversi in realtà più che uguali che è ambiguo perché non si capisce se fa riferimento a il riferimento piuttosto che all'oggetto diciamo stesso oggetto quindi stesso oggetto abbiamo visto è false come faccio a verificare se due oggetti sono uguali devo andare a scrivere un metodo di confronto quindi devo andare a scrivere qua dentro un metodo public boolean uguali che riceve un'altra auto e vado a semplicemente restituire come risultato dis punto colore uguale 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 altra auto punto colore and dis punto marca uguale altra auto punto marca punto punto dis punto accesso scusate qui non è un uguale ma è un uguale 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 a altra auto punto accesso si può usare dis altra auto tra parentesi non so cosa significhi non accesso ma acceso scusatemi ok quindi scrivere qua dis punto altra auto no attenzione dis è un riferimento car è un tipo un nome di classe quindi qui è come se avessi scritto un parametro int i quindi qui ci va un tipo e quindi il nome di una classe e qui ci va un nome che poi è quello che viene utilizzato dopo quindi dis attenzione a non confondere il riferimento che punta un oggetto e il nome della classe che è la tipologia il tipo degli oggetti quindi qui cosa stiamo facendo andiamo a dire che due oggetti sono uguali se hanno stesso colore stessa marca e stesso valore di acceso quindi nel mio programma principale posso andare a dire boolean uguali uguale a c punto uguali di se vado a stampare uguali quello che ottengo è prima false che è quindi la prima stampa questa e poi true perché giustamente sono state create allo stesso modo quindi i due oggetti sono uguali allo stesso contenuto osservazione ma non dovremmo avere una funzione di confronto per le stringhe sì sì infatti io ho glissato su questo aspetto ma effettivamente questa scrittura qua va a confrontare i due riferimenti al stringhe quindi se le due auto hanno la stringa che descrive il colore che è esattamente lo stesso oggetto allora quel confronto lì è successo altrimenti anche se sono due stringhe che contengono entrambe la parola bianco ma sono due oggetti diversi quel confronto mi dà un risultato falso per cui in realtà invece di scrivere questo dovrei scrivere this punto colore punto equals alta auto punto colore equals è un metodo definito dentro la classe string che mi fa il confronto se vado qui sopra vedete che c'è la documentazione di quel metodo io vi ho fatto vedere velocemente gli API la documentazione di tutte le API Java sostanzialmente quando io vado a mettermi su un metodo che ha una documentazione associata Eclipse ma questo lo fanno qualunque editor moderno mi mostra l'help la documentazione relativa a quel metodo quindi usando l'uguale uguale in realtà io mi sono fermato al primo livello di confronto se io voglio fare un confronto approfondito devo ulteriormente chiedere agli oggetti di confrontarsi invece di andare semplicemente a confrontare i riferimenti a questo punto torno un attimo sulle slide quindi abbiamo detto che possiamo fare il confronto il confronto è fra riferimenti e se voglio fare un confronto tra oggetti devo andare a scrivermelo io ci torneremo in realtà quello è un esempio molto semplice che vi ho fatto c'è un modo standard che è il metodo equals che permette di fare i confronti ed è quello che viene utilizzato in tutto tutte le classi java io l'ho chiamato uguali proprio per per semplicità in string ma in tutte le classi definite nelle librerie java esiste un metodo che si chiama equals che permette di fare il confronto tra i contenuti degli oggetti e non semplicemente tra i riferimenti abbiamo parlato dei metodi allora mi fermo allora se invoco un metodo di una classe deve essere scritto prima o può anche trovarlo allora l'ordine con cui dichiaro è indifferente quindi io posso chiamare un metodo che si trova definito sotto la compilazione viene fatta in due fasi quindi non c'è un ordine necessario oppure posso usare un metodo che fa riferimento a un attributo che viene poi dichiarato dopo l'ordine è assolutamente irrilevante l'importante è che sia tutto definito allora usando uguale uguale allora nel caso dell'esempio precedente con A1 e A2 dove copio A1 in A2 usare uguale uguale oppure usare il metodo di confronto è esattamente la stessa cosa non so se ho risposto alla domanda nel nostro esempio scusate torno un attimo per rispondere alla domanda nel nostro esempio questo vedete che C è un'auto e D è un'altra auto quindi sono stati creati due oggetti diversi se io avessi scritto invece di scrivere D uguale a new car avessi scritto car D uguale a C a questo punto avrei avuto true sia da questo confronto sia da quest'altro perché effettivamente in questo caso sono esattamente gli stessi oggetti e gli stessi oggetti per forza per definizione sono uguali quindi un oggetto uguale per forza a se stesso ok torno alle slide ok breve cenno a quello che è l'overloading l'overloading è la possibilità di avere più metodi metodi che hanno esattamente lo stesso nome torno un attimo alle domande dopo finisco di dire cos'è l'overloading poi torno a rispondere via le domande così non mi interrompo troppe volte l'overloading vuol dire avere più metodi con lo stesso nome l'importante è che siano diversi in termini di parametri perché perché java identifica i metodi in base a quella che si chiama una signature che è composta da nome del del metodo e tutti i tipi dei parametri per cui nel momento in cui io faccio una chiamata a un metodo il compilatore è in grado di risolvere l'ambiguità andando semplicemente a vedere quali sono i tipi dei valori dei parametri attuali che io passo al metodo ad esempio qui ho paint senza parametri paint con parametro intero e paint con parametro stringa quindi funziona tutto nel momento in cui chiamo paint perché o non passo nessun parametro o passo un intero oppure passo una stringa posso applicare l'overloading anche ai costruttori quindi posso avere un costruttore senza parametri con una stringa o con più stringhe e quindi ho la possibilità di andare a inizializzare degli oggetti che costruisco con una certa flessibilità in base a quello che mi serve di volta in volta infine c'è la distruzione degli oggetti che in java è implicita quindi nel momento in cui ci ritroviamo in una situazione vi recupero al disegnino di prima questo nel momento in cui noi ci ritroviamo in una situazione come questa in cui un oggetto non è più legato a nessun riferimento quell'oggetto è irraggiungibile quindi la virtual machine cosa farà prima o poi andrà a rilasciarlo quindi non c'è nessuna operazione esplicita che dobbiamo fare noi come programmatori di rilascio della memoria perché la memoria viene sostanzialmente liberata automaticamente dal nostro ambiente java dalla virtual machine quindi giusto per riepilogare alla fine il ciclo di vita di un oggetto è questo inizia di creare un riferimento e l'oggetto ancora non esiste quindi c'è l'intenzione di avere un oggetto ma l'oggetto non c'è l'oggetto viene creato quando ho un'operazione di new e poi uso l'oggetto quindi uso riferimento per raggiungere l'oggetto e sostanzialmente l'esempio per chiamare dei metodi di questo oggetto a un certo punto quando non c'è più alcun riferimento qui in questo caso termina main quindi la variabile c non è più esistente l'oggetto è irraggiungibile quindi prima o poi la macchina virtuale anzi un componente che si chiama garbage collector della macchina virtuale andrà a identificare quell'oggetto come non più raggiungibile e lo eliminerà quindi sostanzialmente questa operazione non viene fatta di continuo perché computazionalmente sarebbe molto pesante ma bensì viene fatta periodicamente quindi periodicamente il garbage collector cerca di capire quali sono gli oggetti ancora attivi quindi che hanno qualche riferimento che punta ad essi e quelli che sono inattivi e a un certo punto li rilascia posso posso scrivere allora non posso scrivere c uguale a new car perché c non è definito posso scrivere esattamente posso scrivere in un'unica riga car c uguale a new car come sostanzialmente adesso torno a alla finestra con eclipse così risolviamo un po' di cose esattamente come avevo fatto qua in cui avevo scritto car d uguale a new car quindi dichiaro che d è di tipo car e gli assegno il risultato della creazione di un nuovo oggetto cosa succede se si crea un costruttore nella classe in cui anche il main allora nulla cioè sostanzialmente allora questa è la classe programma io posso andare tranquillamente a creare un costruttore quindi posso mettere un public programma e qui posso mettere una variabile intera attributo attributo uguale 42 a questo punto va benissimo se io inizio l'esecuzione da questa applicazione viene eseguito il metodo main e questo qua viene ignorato viene ignorato finché io non faccio ad esempio qui in fondo programma p uguale new programma a questo punto new programma cosa fa? va a creare un oggetto che contiene un attributo intero lo inizializza a zero chiama il costruttore che mette 42 e ho un nuovo oggetto normalmente per pulizia in generale è meglio mettere il metodo main in una classe a sé stante dove c'è solo main però nulla vieta come in questo caso di avere una classe che ha degli attributi un costruttore e un metodo main che magari inizializza un'istanza della stessa classe è presente che il metodo main lo vedremo più avanti quando parleremo dei metodi statici è slegato da qualunque oggetto quindi viene chiamato direttamente dalla virtual machine senza fare riferimento a un oggetto domanda devo creare un metodo per modificare ogni attributo di un oggetto al di fuori dell'oggetto stesso allora tendenzialmente sì ne riparliamo alla prossima lezione quando parleremo di metodi get reset tendenzialmente ogni volta che io devo accedere a un attributo lettura scrittura in comunque altro modo di un oggetto è preferibile avere un metodo che faccia quell'operazione il main potrebbe stare anche nella classe car sì nella classe car che vi ho creato prima potremmo mettere un metodo main che crea un oggetto car sì ricordatevi che quando io faccio partire un programma java vado a indicare una classe che cosa succede che la virtual machine carica quella classe cerca il metodo main e se è presente lo esegue se non è presente ci segnala un errore quindi potenzialmente io potrei mettere un metodo main in tutte le classi e poi iniziare l'esecuzione da una classe piuttosto che dall'altra non c'è una funzione main unica come in C perché perché in C la funzione main è nello spazio di nomi globali qui il metodo main che è in programma non si trova nello spazio globale ma si trova dentro la classe programma quindi io do il nome di una classe la virtual machine la carica cerca il metodo main e inizia l'esecuzione da lì quindi il punto di partenza che io do alla virtual machine è il nome di una classe la virtual machine recupera il metodo main e inizia da quello il metodo main deve essere per forza contenuto in una classe non posso metterlo fuori da una classe perché è sintaticamente errato andare a dichiarare main fuori da qualunque classe quindi comunque una classe deve eserci quindi in un progetto giustamente possono esserci più metodi main non è che abbia molto senso alcuni potrebbero esserci per motivi di teste ma non vedo altre ragioni per avere tanti metodi main scorro un attimo la chat per capire se mi è sfuggito a qualche domanda allora prima c'è una domanda per la stampa nelle parentesi sembrano le virgolette probabilmente qui non so se il riferimento era a questo esempio oppure ad altro allora se io qui faccio stesso oggetto e il risultato faccio un piccolo punto su questo poi rispondo all'ultima domanda che è arrivata qui che cosa fa mi stampa il valore della variabile stesso oggetto che quindi potrà essendo una variabile booleana essere o true o false se invece io faccio stesso oggetto questo mi stampa la stringa che contiene i caratteri st e s s o eccetera eccetera quindi questo mi stampa la stringa che indico qua questo mi stampa il valore della variabile stesso oggetto ok domanda scritto in parallelo la classe dà un errore nella definizione del metodo uguale della classe car e allora purtroppo io a distanza ho difficoltà il metodo uguale potrebbe essere stato scritto in qualche modo non corretto quindi dipende dal tipo di errore allora manca una new stringa del costruttore allora qui effettivamente questo costruttore è incompleto io inizializzo semplicemente il colore la marca non l'ho inizializzata la marca la posso inizializzare in tanti modi poi vedremo meglio come funzionano le stringhe però posso andare a inizializzare così direttamente con quello che si chiama un letterale oppure posso andare a dire in alternativa marca uguale a new string Ferrari queste due scritture sono sostanzialmente equivalenti c'è una leggerissima differenza che vedremo più avanti ma sostanzialmente questa è quella che si usa di solito perché è decisamente più compatta per quanto riguarda il garbage collector qualunque oggetto che io vado a creare con new viene messo nello heap quindi la memoria dinamica che è la stessa sostanzialmente funziona in maniera analoga quanto avviene in C non posso allocare esplicitamente variabili nello stack le variabili che alloco nello stack sono quelle che dichiaro così come variabili locali ma non sono oggetti quindi nello stack quindi le variabili locali sono esclusivamente riferimenti oppure tipi primitivi non ho la possibilità come ad esempio in C di andare a mettere nello stack un'intera struttura o nello stack soltanto valori elementari riferimenti e tipi primitivi allora per la stampa ci torniamo perché è abbastanza diverso da da quanto abbiamo in C vi faccio vedere semplicemente un esempio qui quando devo stampare del testo più dei valori eccetera posso tranquillamente andare a dire gli oggetti sono uguali punto interrogativo quindi questa è una stringa più uguali quindi mettiamo uno spazio qua quindi il più mi permette di concatenare una stringa con qualunque altra cosa interi floating point eccetera eccetera poi esiste comunque la possibilità di andare a formatare le stringhe esattamente come con la printf quindi con il percento la notazione quindi per cento però per output molto semplici posso semplicemente andare a scrivere un'operazione di questo tipo quindi pezzo di stringa più poi posso andare più mettere un altro punto finale quindi con il più posso fare tantissime operazioni molto semplici decisamente più leggibili che le stringhe di formatazione della printf per andare a generare dell'output allora uguali effettivamente cosa fa lo vediamo qui confronta singolo campo tutti i singoli campi del del nostro oggetto e se sono uguali ci dice che sono uguali mentre invece l'uguale uguale semplicemente va a confrontare i due puntatori e quindi sono uguali semplicemente se hanno lo stesso valore quindi se puntano lo stesso oggetto sì possiamo cambiare il nome a car o qualunque altra cosa va benissimo allora domanda il garbage collector elimina l'oggetto in memoria nel momento in cui non ha più riferimenti o in un secondo momento allora il garbage collector come vi accennavo prima non funziona in maniera continuativa ma a intervalli verifica quali sono gli oggetti che devono essere liberati e quindi a ondate decide di spazzare tutto quello che non ha riferimenti per cui per cui l'istante in cui un oggetto resta senza riferimenti non coincide solitamente con l'istante in cui quell'oggetto viene deallocato dal garbage collector vi faccio notare che è possibile che un oggetto non venga mai deallocato se prendete questo esempio qua car e andate scusatemi e andate a definire qua nella classe programma il metodo finalize quindi public void finalize che è il metodo che viene automaticamente chiamato dal garbage collector quando dealloca e quindi qui dentro andiamo a mettere un system auto println deallocato oggetto programma se lancio il programma allora qui ho un'eccezione di puntatore nullo qui giustamente perché qui sto cercando di fare un confronto allora fatemi creare un costruttore dentro car che inizializzi i valori allora torno qua lancio l'applicazione quindi abbiamo false perché non sono lo stesso oggetto gli oggetti sono uguali false punto questo è quello che abbiamo stampato qui e poi vedete che questa chiamata qua all'oggetto che viene deallocato non è mai fatta perché terminato il programma il garbage collector non deve fare più nulla il programma termina e non viene fatta nessuna deallocazione quindi la deallocazione avviene se necessario con calma tenete presente che se avete grandi oggetti tantissimi o grandissimi o una combinazione che devono essere deallocati il garbage collector a un certo punto inizierà a spazzare via tutti gli oggetti e questa operazione potrebbe essere anche onerosa ed è uno dei motivi per cui ad esempio Java non è raccomandato per applicazioni real time immaginate la vostra nuova auto elettrica in cui premete il pulsante il pedale del freno per fermarvi e l'applicazione Java che dovrebbe attivare i freni in quel momento sta facendo garbage collection crash quindi la garbage collection è molto comoda dal punto di vista del programmatore però ha alcuni effetti collaterali come il fatto che io posso avere in momenti impredicibili la mia applicazione Java che rallenta o si congela per un breve periodo allora non possiamo direttamente ripulire manualmente quello che possiamo fare ma poi ci torneremo ancora più avanti è andare a chiamare sulla classe sistema un metodo che si chiama GC quindi P mettiamo uguale a null così non ce l'abbiamo più e GC secondo le specifiche è un pacato suggerimento alla virtual machine perché possa fare un po' di garbage collection chi dice guarda che questo forse è il momento di andare a ripulire per cui se io eseguo la mia applicazione in questo contesto vedete che GC il suggerimento di GC è stato seguito e per cui mi ha deallocato l'oggetto al programma tenete presente che non è garantito da nessuna parte che quando voi chiamate GC effettivamente parte il garbage collector è un suggerimento se non sta facendo nulla la virtual machine di solito funziona ma non è garantito eh finalize finalize è un metodo standard predefinito quindi automaticamente se è presente all'interno di una classe quando un oggetto di quella classe viene deallocato la virtual machine lo chiama automaticamente eh è uno è un metodo che io posso definire se non c'è vuol dire che non viene fatto nulla eh voi potete chiamare un metodo con lo stesso nome però vi verrà chiamato nel momento in cui eh la classe viene deallocata a meno che non usiate l'overload per cui se invece di chiamarlo finalize lo chiamate finalize con un parametro int a questo punto non è più lo stesso metodo e quindi può essere creato come poi non potete chiamare un metodo con new ad esempio sono parole chiave riservate a questo punto allora i metodi di libreria in realtà alcuni sono automaticamente importati direi che quando parleremo di di package e quant'altro vedremo i dettagli string è una classe una delle classi di base che quindi è automaticamente disponibile senza dover importare nulla altrimenti per le altre classi di solito bisogna fare un mettere un'istruzione di import ma ci ci arriviamo sì ovviamente vi segnalo quando ci sono dei metodi standard come i finalize o come le parole chiave new null eccetera comunque le vedete di solito le parole chiave le vedete evidenziate il metodo finalize è un metodo predefinito che vi sto raccontando adesso allora io tendenzialmente fermerei qua la lezione quindi abbiamo riepilogato abbiamo visto un po' di esempi resto ovviamente a disposizione qui o eventualmente anche su slack per eventuali commenti e feedback quindi io ancora qualche minuto sono qua collegato se poi avete domande o altro io cerco di rispondervi così restano poi nella registrazione restano per tutti allora sì qualcuno ve l'aveva già segnalato il fatto che c'è un cambio di suddivisione alfabetica non ho letto la mail questa mattina ma non ho visto nessuna segnalazione di solito avvisano allora in ogni caso non so se io ho avuto più studenti alcuni studenti sono andati via per cui non non saprei in ogni caso verifico esattamente qual è stato il cambiamento di cognomi i corsi i tre corsi in italiano ma anche quello in inglese sono assolutamente equivalenti cambia il materiale perché ovviamente il materiale che uso io piuttosto che gli altri colleghi magari non è esattamente lo stesso le lezioni vengono fatte in maniera leggermente diversa ma sostanzialmente il programma è esattamente lo stesso quindi non ci sono particolari problemi potete utilizzare il mio materiale e le mie video lezioni sono open e libere quindi sono sulla pagina del che abbiamo elencato prima piuttosto che sul su youtube i video vi ho messo anche un link a una cartella dropbox da cui potete scaricare direttamente i file video se preferite scaricarli invece che guardarli online su youtube quindi in generale potete transire da un corso all'altro senza grandi problemi per quanto riguarderà i laboratori probabilmente verrete semplicemente divisi in ordine alfabetico non lo so dobbiamo ancora capire esattamente come gestire la cosa perché quando i laboratori avvenivano in sede c'era una certa capienza e quindi c'erano delle squadre ora potremmo anche pensare di fare un'unica squadra unica e fare un supporto online però dobbiamo ancora decidere e capire bene qual è il contesto e quali sono le implicazioni di questo diciamo che entro la settimana prossima vi daremo indicazioni sui laboratori che comunque ripeto partiranno la terza settimana quindi abbiamo ancora tempo per trovare una una soluzione che possa funzionare decentemente allora il link a questa lezione io in realtà l'ho mandato ieri sera quindi è possibile che nella notte abbiano fatto qualche modifica inoltre vi potete collegare su Slack allora vi metto direttamente qua il link visto che qualcuno già prima ha messo il link alla pagina del corso allora esattamente quello è il link alla pagina del corso sulla pagina del corso che a questo punto faccio che mostrarvi al volo trovate il link alle lezioni YouTube il link alla cartella Dropbox dove trovate copia degli stessi video sostanzialmente quelli che ho che vi ho caricato non c'è il link a Slack che vi avevo messo nella slide iniziale di oggi che è quello che vi incollo qui ora ok questo è il link per la Workspace Slack vi registrate mettete la vostra del vostro email quello del Politecnico perché quelle sono abilitate automaticamente quello è una serie di diciamo chat room in cui c'è un po' di interazione in cui io posto tutto tutti gli avvisi oltre a mandare le email però quello è immediato e soprattutto c'è traccia ed è visibile a tutti e soprattutto lì è possibile andare a fare delle delle interazioni io penso dovrò confrontarmi con i miei colleghi di utilizzare quello come strumento principale per riuscire a fare delle interazioni durante i laboratori Slack tanto per darvi un'idea è sostanzialmente questo quindi c'è un ieri ho postato i link alle due video lezioni il link a Slack l'indagine di questa mattina in cui non avete risposto a tanti cercate di collegarvi perché questo è l'altro canale che possiamo utilizzare per avere tutti sì Slack giustamente come potete notare in chat ha anche un'applicazione sia per iOS che per Android su cui potete ricevere le notifiche tra l'altro potete personalizzare le notifiche quindi mutare qualche canale piuttosto che altri e avete immediatamente tutto sì la lezione 01 era l'introduzione giustamente non c'è il numero perché inizialmente non avevo messo i numeri sì comunque sono in ordine sono in ordine di data quindi dovreste trovarle senza problemi nelle lezioni YouTube io metto di solito il link anche alle slide pdf che comunque vi pubblico prima è possibile che di tanto in tanto venga fatta qualche piccola modifica alle slide quindi dettagli ovviamente non modifiche significative perché quando comunque le usate nei lucidi scusate nelle video lezioni non cambiano più tanto a questo punto mentre aspetto eventuali altre domande metterò delle nuove lezioni online a questo punto presto e la prossima lezione dal vivo sarà poi lunedì prossimo mi dicono che stanno potenziando gli strumenti della virtual classroom del politecnico quindi magari faremo qualche piccola modifica qui probabilmente torneremo alla virtual classroom se funziona per quanto riguarda esercitazioni materiale al momento non avete ancora le conoscenze per riuscire a scrivere un programma Java direi che appena c'è vi pubblicheremo un po' di esercizi la virtual machine Java allora vi recupero un attimo i lucidi dell'altra parte un recuperatore oggi allora vi riepilogo brevemente allora questo è una slide dal set sull'ambiente Java come funziona in generale il meccanismo della virtual machine allora l'idea è che sostanzialmente parto da un programma lo compilo Eclipse fa tutto questo in maniera trasparente quindi non ce ne accorgiamo e genera dei file punto class che contengono il bytecode il bytecode è poi quello che viene caricato dalla virtual machine quindi cosa succede la virtual machine normalmente parte perché do il nome di una classe che cosa fa la virtual machine la virtual machine cerca di caricare il bytecode di questa classe quella di partenza attenzione non è necessario mettere l'estensione anzi non è proprio un errore mettere l'estensione quindi gli dico parti da quella classe la virtual machine carica la classe tra un attimo vediamo anche i dettagli di come lo fa e cerca al suo interno un metodo che si chiama email se all'interno di quel metodo vengono usate altre classi le carica man mano che è necessario quindi quando vede che è necessario carica la classe cercando il file con il bytecode e lo esegue l'esecuzione comunque inizia sempre e comunque dal metodo main della prima classe che io vado a specificare qua quindi di nascosto Eclipse sostanzialmente quando noi lanciamo il programma chiama Java e gli passa il nome della classe che stiamo eseguendo viene eseguita il metodo main il quale potrebbe creare altre classi scusate oggetti di altre classi quindi man mano che sono necessarie le chiama e ovviamente crea gli oggetti quindi è possibile che durante l'esecuzione la virtual machine quando vede necessario carichi delle nuove classi come fa a caricare le classi sostanzialmente si basa su quello che in gergo si chiama il class path che è un elenco di posizioni normalmente sul file system in cui andare a cercare queste classi le classi vengono cercate nell'ordine con cui le cartelle compaiono nel class path quindi prende la prima cartella va a vedere se trova un file che si chiama nome della classe punto class se lo trova lo carica e quindi interpreta tutti i attributi metodi eccetera altrimenti passa a quello successivo se non l'ha trovato alla fine ci darà un errore ci dice che la classe non può essere trovata nel class path inoltre oltre ad avere delle posizioni nel file system è possibile andare a indicare quelli che sono dei file di tipo jar che sono il modo standard di andare a distribuire il software quindi un file jar che è sostanzialmente una variante di un file archivio zip può contenere tante file punto class a cui la virtual machine può accedere quindi una serie di cartelle più una serie di file jar sono le posizioni in cui la virtual machine di solito va a cercare ovviamente normalmente la cartella corrente cioè quella su cui stiamo lavorando in cui ci sono gli altri file punto class è quella in cui viene anche cercato il progetto corrente allora domanda avendo Java 8 corretto Eclipse imposta Java SE 1.8 no va bene l'importante è che sia 1.8 che quindi quella sia la convenzione l'idea è che quando andiamo a fare queste lezioni virtuali io vi faccio un riepilogo oggi l'ho fatto un po' più lungo perché le ultime lezioni ve le ho messe veramente all'ultimo tendenzialmente cercherei di fare una sintesi più sintetica e poi magari provare a fare qualche cosa direttamente con voi online con il codice in modo che voi possiate fare domande specifiche sugli esempi o eventualmente su quanto avete visto nelle lezioni precedenti i main delle varie classi non vengono eseguiti in sequenza perché quando io chiamo Java quando io chiamo Java nome della classe la virtual machine esegue il main soltanto di quella i metodi main delle altre classi vengono brutalmente ignorati quindi quando carico una classe non eseguo il suo metodo main eseguo il suo metodo main soltanto se quella è la classe di partenza che ho indicato alla virtual machine allora non è un non c'è un linker perché in realtà Java è un linguaggio che è sostanzialmente interpretato quindi se io faccio un linker di solito devo utilizzare il linguaggio macchina di una piattaforma destinazione quindi quando metto assieme il codice oggetto di tanti programmi tanti applicazioni tanti moduli C già i moduli oggetto sono scritti per una certa piattaforma quindi useranno una certa versione di assembler e poi quando li metto assieme in un programma eseguibile lo faccio per una certa piattaforma quindi questo diciamo impedirebbe l'obiettivo uno degli obiettivi fondamentali di Java che è quello di andare a essere diciamo compilato una volta e poi eseguito ovunque in maniera indipendente l'idea è che io su ogni piattaforma ho una virtual machine e distribuisco esattamente lo stesso codice quindi il codice che funziona a me messo su Windows piuttosto che su Linux funziona esattamente lo stesso modo perché perché è la virtual machine che lo interpreta quindi non devo fare un qualcosa specifico per una particolare piattaforma per un particolare processore o altro per cui tendenzialmente non si generano mai degli eseguibili specifici per una piattaforma in Java mentre siamo su questa slide vi ricordo forse l'ho detto anche nella video lezione che è possibile andare ad accedere quindi fare un caricamento classi non soltanto in locale ma anche in remoto quindi io posso caricare da web delle classi ovviamente ci sono eventuali problemi di sicurezza però potenzialmente questo meccanismo dà molta più flessibilità e soprattutto dà una portabilità che è elevatissima ok direi che a questo punto non essendoci altre domande tenderei a chiudere qui se avete altre domande ovviamente registratevi e fatele su Slack vi chiederei di utilizzare i canali giusti quindi su General fate domande generali sul corso sull'organizzazione lezioni eccetera se avete domande specifiche su Java come le ultime a cui ho risposto qua mettetele sul canale di Java così sono più strutturate per cui se cercate una risposta sapete anche dove andare a cercare eventualmente qualcosa che è stato dato come risposta precedentemente ok la differenza tra questa e la presenza è che io voi non vi vedo leggo la chat però è molto diverso quindi ci sono vantaggi e svantaggi una possibilità è fare lezioni cioè registrare le lezioni esattamente come sto facendo adesso darvele da vedere e poi in aula che è un po' più facile l'interazione rispetto a questo avere un dialogo un riepilogo e domande eccetera però sì è un'altra possibilità possiamo anche pensare di mettere la chat in aula o comunque usare una modalità mista però tendenzialmente visto l'andamento le previsioni più caute sono che andremo avanti con questa modalità fino a fine semestre quindi almeno per questo semestre è probabile che andremo avanti così allora a questo punto chiudo la registrazione di questa lezione e vi saluto noi ci vediamo direi con le video lezioni presto e in diretta ci vediamo lunedì prossimo vi mando comunque sia su su slack che via mail un reminder quando pubblico le lezioni e poi il link per attivare la lezione di lunedì prossimo venerdì venerdì il venerdì è previsto e in orario per i laboratori quindi non c'è lezione sarà il momento dei laboratori magari userò quell'orario per fare qualche prova quindi magari mando un messaggio su slack e chi è presente magari fa qualche prova ma tendenzialmente non non verrà utilizzato per le lezioni ma soltanto per i laboratori grazie a tutti